Alla Fiera dell'Est, per due soldi, uno Steph una pozione compro. Alla Fiera dell'Est, per tre soldi, Steph una pozione vendette, sì sì sì. Alla Fiera dell'Est, Steph aprì, un bel negozio divenne tanto ricco. E ragazzi come va? Io sono FieriNiki. E io sono Steph e questo gioco è una ShopEquipe. Ebbene sì, visto che My Little Blacksmith Shop vi è piaciuto tantissimo e avete votato in tantissimi questo gioco, eccoci qua prontissimi ad aprire il nostro negozio. Esattamente, questo giochino è davvero fantastico, lo conoscevamo dall'anno scorso, non abbiamo mai avuto il piacere di farlo, ma non potevamo non portarlo dopo My Little Blacksmith Shop. Guarda che belli che siamo, siamo super eleganti, proprio dei gentlemen, esatto, dei signori prontissimi ad avviare la loro attività, proprio più seri di così non possiamo essere. Questa è casa nostra, dove ci sanno tutti i trofei che riusciremo a fare vendendo nel nostro negozio, ma adesso dobbiamo andare appunto al nostro negozio. Guardate come l'abbiamo chiamato, il negozio dei consolini. Giustamente, giustamente, anche perché su My Little Blacksmith non c'è venuto Fabrino il consolino, che ce l'hanno scritto tutti. È una vergogna. Quindi per farci perdonare, dedichiamo l'intero negozio ai consolini, mi sembra giusto, mi sembra giusto. Esatto, e ovviamente è completamente vuoto, perché dobbiamo sistemarlo noi, qua c'è il nostro magazzino dove arriverà tutta la merce, quindi iniziamo a sistemare. Allora, prima di tutto dobbiamo, credo, mettere tipo questi sgabellini qua. Sono tavolini piccolini. E' uno sgabello dove mettere una tovaglietta e fa finta che sia un tavolino. Eh, vabbè, all'inizio quando uno apre un'attività giustamente si deve un po' arrangiare con le cose basilari, certo, certo. Assolutamente sì. Allora, lo mettiamo qua così. Sì. Ok, uno, due, mi sa che ce ne fa mettere tipo quattro, perché siamo proprio super mega poveri. Non ne posso mettere anche di più volendo. Mettiamo anche il quinto? Sì. Ok, così. Però aspetta, aspetta. No, ok, ci rimane quaranta, perfetto, perché poi non vorrei che non ci avanzino solo lì per comprare la prima merce, dobbiamo stare molto, molto attenti. Ci stava già pensando da qua, infatti, facciamo l'ordine. Queste sono tutte le cose che per ora possiamo vendere, abbiamo pozioni, vestiti, poca roba. Bisogna piano piano arrivare alle cose più belle, per ora ci ordiniamo le pozioni, che è l'unica cosa che costa poco e che ci possiamo permettere di comprare per poi vendere. E' il primo ordine arrivato, guarda, hopla, e adesso abbiamo le pozioni. Giusto, quattro. Praticamente io cliccando più e meno posso decidere quanto vale la pozione. Al momento lo vogliamo vendere a dieci, che è lo stesso prezzo di acquisto. No, allora no. Quindi sarebbe zero di profitto, quindi dobbiamo aumentare. Io direi almeno dodici. Ok, e dodici sia. E scusa, se non facciamo profitti, qui è un disastro, cioè se le compriamo per dieci, le rivediamo per dieci, non guadagniamo niente, quindi. Che belline, che belline. Apriamo? Sì, ovviamente, tanto non possiamo mettere altro, quindi direi di aprire. Benvenuti! Non c'è nessuna. Non c'è nessuna, forse è troppo presto, è ancora l'alba, non si sono ancora svegliati. Sì, ma il nostro primo giorno c'è la festa per l'apertura del negozio. Oh no, guarda, iniziano ad arrivare i cittadini, guarda lì, guarda lì lì giù. Scusate! Abbiamo appena aperto un negozio, volete venire? Il negozio di Consolini è appena aperto per il primo giorno, lei secondo me, Christine, vuole venire. No, non le interessa, dice che vuole andare a bersi una bella birra. Prima di andare in battaglia, visto che è una guerriera. Tutti i guerrieri sono qua, che bello. Sì, 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 non mi sembra che nessuno sia intenzionato alle nostre pozioni per adesso. Al momento no, al momento no. Scusate, ma sono bellissime. Lui è interessato, me lo sento, lui sì. Le abbiamo gestite con tanta cura, le abbiamo accarezzate, spolverate, sono bellissime. No, eh? No. Niente. Ma che tristezza. Lei sta camminando verso di noi, vero? Sì. È proprio così? Sì, sì. Venga, venga da bravo. Sì, 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 sì. Ok, entri dentro. Oh, finalmente, pensavo andasse dritto. Guarda, mi è venuto un colpo. Il nostro primo cliente. Le pozioni, lei che è un guerriero, le servirà. No! No! Prendi l'arma! Sì, ho to... Dov'è? Dov'è? L'ho ucciso? Non lo so. Sì. Ma scherzi? Il nostro primo cliente è un ladro. Ma ci sono rimasto malissimo! Cioè, ma poi l'hai visto che l'ha presa e iniziata a correre? Eh no, aspetta che cammina. Ma ci sono rimasto malissimo, ero così felice, ho detto il primo cliente invece cerca di rubarcela. Io ero felice, ho detto che è un guerriero, gli servirà sicuramente la pozione della vita, invece... Fai attenzione! Allora, eh. Perché sono tutti dei furfantelli qua! Signorino! Ok! Ok! 14 di gold, infatti, la prima vendita del nostro negozio. Benissimo, bene così. E sono rimasto un po' male, cioè, proprio il primo negozio, un ladro. Eh! Capito? Sarà dura, sarà dura gestirlo. È una di quelle cose che non dimentichi mai. Esatto, esatto. A 14, perché abbiamo anche dei talent. Sì, esatto, praticamente abbiamo i talent da mercanti, molto basilari, molto semplici, sono i primi. Praticamente facciamo il 20% di soldi in più per ogni cosa che vendiamo nel negozio. È proprio la prima cosa che si mette in questo gioco. Diciamo che credo che serva a dare una mano all'inizio, che altrimenti se guadagni due a pozione stai presto qua. Come fai a fare soldi qua? Cioè ci metti una vita, capito? Giorni dopo stai ancora facendo 20 monetine. Qualcuno che vuole entrare, per favore. Ma qua è rimasto il cadavere. Posso pulire? Che cosa era capricciante. Eh, lo so, lo so, lo so. Però se i clienti lo vedono, non entrano. Eh, appunto, un cadavere di fronte al negozio. Perfetto. L'abbiamo pulito con una scopa. Con una scopa è sparito. Mi sembra giusto. Alla vecchia maniera, no? Io voglio provare a vendere una pozione a mano. Allora, aspetta che la prendo e iniziamo ad andare. Buongiorno, come si chiama? Rasa Bieber. Rasa Bieber. Allora, lei, secondo me, vorrebbe questa pozione. L'ha presa? Sì, però l'abbiamo venduta ad 11, invece che a 14. Quindi se le andiamo a vendere a mano, le comprano a meno prezzo, ok? Sì, ci offrono di meno perché non sono del tutto interessati, capito? Sei un po' lì che forzi la mano. Quindi comunque devi un po' barattare l'offerta, capito? Mi sembra giusto. Venga, bravo. Bravo, dai un'altra pozione. Adesso l'ansia, ho paura che qualsiasi cliente voglia rubare, ok? Ok, andate. Devi restare positiva. Allora, abbiamo fatto un po' di soldi, ordiniamo altre tre pozioni. Secondo me, per ora, dobbiamo fare un commercio di pozioni. Eh no, certo, certo. Poi, in futuro, vediamo un attimino. Guarda qua! Ma che vendite che facciamo oggi! Bravissimo! Come si chiama lei? Chris. Grazie mille, Chris. Quella pozione lo farà stare molto meglio, sì. E le farà crescere anche la barba. Infatti, guarda com'è felice, basta. Ma felicissimo. Lo dica a tutti i suoi amici e familiari, va bene? Grazie mille. Buona giornata. Arrivate le nuove pozioni, le prendiamo. Le piazziamo subito e poi ti faccio vedere un'altra cosa interessante. Ok, perfetto. Una, due, il prezzo è sempre lo stesso, sì. Tre, e non ne abbiamo altre per il momento. Vabbè, sì. Qua praticamente abbiamo anche delle missioni. Ci sta dicendo? Ok, gli hot items, quindi le cose che diciamo sono più di moda al momento. Per i guerrieri dice il gold plated pants. Per i maghi, i funghi. I funghi. Per i ladri, la pozione appunto di vita, quella che vendiamo noi. Ok. E per i druidi, invece, qualcosa di legno. Ed è appena cambiata. Ed è appena cambiata. Ok, stare attento. Lei, 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 è quello di prima. Ma se l'hai già bevuta, si è tagliata la barba. No, è un altro, non è Chris. Vedi che non è Chris. Grazie mille. Era il fratello di Chris. E tu gli hai detto, dillo a tutta la famiglia, ha portato il fratello. La ha consigliato subito al fratello. Gli ha detto, guarda, con questa pozione mi sono cresciuti dei muscoli. Basta. Uè! Un messicano. Bel cappello. Vuole un po' di tequila? Non ce l'abbiamo, abbiamo solo pozioni di vita, mi spiace. Infatti se ne va da un'altra parte. 49 monete. Allora, voglio provare il primo investimento. Visto che ho visto molti interessati agli scarponi in pelle, voglio provare a comprarli. Li prendiamo, sì. Va bene. Ma dove li potremmo mettere, però? Non ho idea. Non so se si possono mettere lì sopra. Nel caso li vendiamo a mano. Ok, ok. Magari ci guadagniamo un po' di meno, però va bene. Ok. Ok, perfetto. Abbiamo solo una pozione, perché nel ventre ne abbiamo venduto un'altra ancora. Sì, l'ho visto, infatti lo vedi che se ne va con la nostra pozione appena comprata. Ok, è andato bene, è andato bene. Abbiamo fatto qualche minutino senza vendere nulla, stanno arrivando tutti adesso, quindi ottimo, ottimo, ottimo. Esatto. E al momento è sera. Lo sai una delle cose più fighe? Ogni dieci giorni del gioco cambia la stagione, quindi c'è estate, primavera, autunno e inverno. Ok, giustamente. Magari erano diverse, quindi ho voluto specificare, ok? Non credo. In base alla stagione, loro vogliono comprare anche degli oggetti diversi. Cosa ne so, d'inverno c'è freddo, magari vogliono qualcosa per coprirsi. No, beh, giusto, giusto. Oggetti particolari che tu vendi solo in una stagione. Bella questa cosa, eh, bella, bella, bella. Vediamo se possiamo posizionare i nostri stivali. Sì, si può. Oh, ma che belli! Sì, ovviamente. Vediamoli per lo stesso prezzo a cui li abbiamo accostati. Allora. 50, io direi. Un profitto solo di 6? Facciamo 52, dai. Ok. Eh, dobbiamo iniziare anche a guadagnare perché vorrei prendere anche, cosa ne so, qualche scaffale, qualcosa di un po' più carino per il nostro negozio, perché al momento abbiamo solo questi sgabelli che diciamo non è che sono il massimo a livello di estetica. Esattamente. Guarda. Ma li ho messi in prima fila così chiunque entri viene subito a vederli. Non sono proprio bellissimi, eh. Dobbiamo migliorare nel creare gli stivali, secondo me. Però possiamo riuscire a venderli. Su, forza, forza, chi vuole degli stivali? Lei, lei, le piacciono i stivali, vero, Becchi? Sì, 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 se le interessano. Aspetta, aspetta, aspetta. Lei li vuole, ne sono sicura. Lei li vuole. Pozione o stivali? Vediamo. Pozione o stivali? Ma no, dai, vengono gli stivali. Pozione. Qualcuno che vuole stivali, stivali freschi, stivali belli, vi riscaldano i piedi come non si sa cosa. Sam, lei ne ha bisogno. Anche se questi rossi sono più bellini, eh. Ti stavo per dire la stacca, stavo già per dire, guarda, ce li ha bellissimi. Sono all'ultima moda, vero, Sam? Sei molto soddisfatto. Pure colorati, capito? Meglio di così. Guarda come è soddisfatto dei suoi stivali. Sì, felicissima. Stanno andando verso gli stivali, eh? Sì, però se glielo dici sotto... Bravissimo. Ok, pensavo sono le stesse per scappare, aiuto. Ok. Che vendita incredibile. Siamo a 65 monete adesso. Con 65 monete possiamo comprare un... Cosa? Una scatola. No, non è vero. Forse costa di più. Eh. Siamo poveri. Allora, lei, 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 su, forza, un po' di pozioni. Ne abbiamo ancora una. Una. Solo. Ma ha fatto un ordine. Forse è arrivato l'ordine e neanche me ne sono accorto. Sì, infatti. Allora ne abbiamo tre di pozioni. Venite che la giornata è quasi finita. E Steph e Ferinichi vogliono andare a letto. Sì, sì, bravo, lei. Faccia da bravo. Ok. Ci teniamo tutti i soldi. Adesso non sto comprando nient'altro perché, secondo me, tra una giornata e l'altra possiamo investire i soldi sui mobili dove piazzare le cose. Sì, perché ce li ha fatti mettere prima che lo aprissimo, se ti ricordi, e adesso non lo fa fare. Quindi supponiamo che lo puoi fare solo durante la chiusura, che mi sembra anche giusto perché non è che sistemi il negozio quando ci sono i clienti. E quindi stiamo a vedere se davvero potremmo farlo. Però manca ancora un minuto. Mi sa che prendo le pozioni e cerco di venderle a mano. Ragazzi. Perché stanno tutti correndo? Non è mai buon segno quando tutti scappano. Ragazzi, fatemi chiudere il negozio. Ok. Ok. Allora scappo. Scappo anche io nel dubbio. Cioè, è diventata deserta la città. Allora. Mamma mia. Andiamo a casa nostra. Sì, ma è chiuso bene. Siamo di semplici mercanti. Facciamoci gli affari nostri. Allora, chiudiamo la porta. Chiudi bene la porta. Io mi nascondo qua così. Tengo pronta la mia arma. Non vi avvicinate. Come avevo detto, quando inizia la seconda giornata possiamo costruire. Esatto. Ci propone questa che tu adesso dici no, ma è brutta. Invece no. No, è lo scaffale. Esatto. È troppo carino. Altrimenti un tavolino. Altrimenti... Questo non è per mettere i vestiti? Eh, sì. Suppongo di sì. Suppongo di sì. Oh, è bello questo gigante. Però non le possiamo ancora mettere, hai notato? Già. Ti dice che ancora non le abbiamo sbloccate. Tavolino? Ah no, questo non ce l'abbiamo. Allora tavolino. Dai, tavolino. Da questa parte? Dove lo mettiamo? Eh sì, dai. Tipo così? Sì, sì. Ti piace? Sì, sì. Sì. Ok. Piazza. Perfetto. E direi che va bene così. Ci lasciamo 78 monete da spendere per tutta la nostra merce. Sì, perché poi spero che possiamo sbloccare almeno lo scaffale. Che secondo me sarebbe bebelino fare tutto lo scaffale con le pozioni. Sto facendo un calcolo. 40 più 25 fa 65. Ok, così. Te lo dice qui sotto il totale. Ah, va bene. Vuoi fare calcoli? Tre oggetti. Tu dirai perché? Perché questa pozione ho visto un sacco di gente che aveva sempre lì con Cina. Ho visto anch'io. Questo per provare a vendere qualcosa di diverso ogni tanto. E una pozione giusto per fare un po' di quantità. Aspettiamo che arrivi tutto e apriamo il nostro negozio. Così tentiamo subito la vendita di qualcosa di più interessante. Qualcosa di più frizzantino qui. E se qua non facciamo un po' di soldi. Poi la pozione di fuoco, ma te l'immagini. È come se fosse una molotov. Tu la lanci e prende fuoco tutto. No, secondo me serve più a resistere agli attacchi di fuoco. Capito? Non lo so. Questi sono i nostri punti. Questo costa 40 e aumenterebbe ancora del 10% quanto vale l'oggetto che vendiamo. Ok, perfetto. Ma questo è interessante. Praticamente le persone che vengono a comprare tendono di più a comprare un secondo oggetto. Questo quindi, questo. Che magari con lo stesso cliente riusciamo a fare anche due vendite. Sarebbe ottimo, ottimo, ottimo. Esatto. Ok, allora. Opla, opla. Piazziamo, secondo me, i cosi guanti qua nel tavolino. E li piazziamo per 50. Ok. Quindi 10 di più. Si possono mettere nel tavolino? No. No, vero? Che triste. Ma che serve quel tavolino? Scusate. E anche le pozioni. Allora, secondo me, sai che non è un tavolino? E allora che cos'è? Sembra una panca per sedersi, in effetti, eh. Ah. Dimmi. È un ragionamento che ho fatto. Ok. Allora, una pozione la vendi a 13. Giusto? Sì, sì. Il 20% di 13 è tipo due monete in più. Ok. Quindi fai 15. Il 20% di 40 monete, 50 monete, quindi delle cose che valgono di più, è molto, molto di più. Eh certo, sì, ovvio, ovvio. Quindi noi sfruttiamo molto di più il nostro talento da venditori quando vendiamo le cose che costano molto. Quindi fare questi investimenti, come queste due cose, è molto conveniente. Ok? Bravissimo. Questa era una lezione d'economia by Steph. Economista, Steph economista. Steph economista, mercante e venditore della Fiera dell'Est. Ti piace? Bellissimo. Un bel titolo, guarda. Lo metterei proprio nella carta d'identità al posto del cognome. Te lo consiglio. Fatelo cambiare. Soprattutto meglio di Ferri Nichi Puzzona. No, non ci provare, guarda. Quello è impossibile. È facile. Buongiorno. Cosa vuole? Salve, che bella giornata. Mi ha comprati. Ma hai visto quanti soldi abbiamo fatto? Eh sì. Dieci monete in più. Allora, aspetta. Secondo me lui vuole rubare. Secondo me lui vuole rubare. Scatto. Scatto. Che succede? Che ha fatto? Ha buttato alla... Secondo me ha cercato di rubare. Ma ha scattato. E quindi l'ha lasciata. E si è spaventato. Esatto. Buongiorno, buongiorno. Lei compra la pozione di fuoco. No, no. Ma ti sembra? Ok. Che quella è importantissima. Non ci provare mai più. Sei una disgraziata ladra. Adesso ci compriamo uno shield. Ok. Va bene? Mi piace. Questa cosa di roba vendiamo oggi. Che bello. E adesso l'ordine è arrivato. Quindi hoppla. Hoppla. Lo piazziamo. Oh. Qui. Oh, finalmente. Allora non era una sedia. È un tavolino dove mettere gli scudi. Dobbiamo aumentare il prezzo. 42. Bellino questo, eh. Bellino. Mi piace. Lo vendiamo così. 55, io direi. No, 52. Va bene. Eh, ma lo vogliono in tanti e l'avrei un po' sovrapprezzato. Non esageriamo. Quando un oggetto viene chiesto tanto si mette un po' il prezzo alto, dai. Esageri sempre. È troppo gentile. Io avrei già un'attività avviatissima senza di te a questo punto. Allora fatela. È arrivato l'ordine. Allora, piazziamo gli stivalozzi qua. Bellissimi. Dimmi che la spada... Ok. Oh, bello, bello. Allora sai che ti dico? Che come finisce la giornata... Ah no, aspetta però. Mi stavo dimenticando. Eh, esatto. Questa la vendiamo a... 105. Ok. Ok, mi sembra giusto. Ok. Se la comprano, ragazzi. Prendiamo il 20% in più, quindi ci dà 125 monete. Compra gli stivali. Dai. L'avevo aumentato il prezzo. Sì, ok. No, ha comprato una posizione. Va bene, va bene. Grazie mille comunque. Con i soldi che adesso facciamo delle ultime vendite, ci compriamo il secondo tavolino. Così possiamo vendere in contemporanea spade e scudi. Eh, mi sembra ottimo. Mi sembra ottimo. Sì, sì, sì. Perché poi lo scudo, appena lo mettiamo, viene subito venduto. Quindi mi sembra proprio un oggetto che vogliono tanto, tanto, tanto. E mi sembra giusto averlo sempre. Esattamente. Il negozio dei consolini sta diventando famoso in tutto il villaggio. Sta diventando sempre più potente. E sono felicissimo perché questo gioco è troppo bellino. Lei vorrebbe una cesta e noi non ce l'abbiamo, mi scusi. Non abbiamo dove piazzarle, hai capito? Eh, ci dispiace. Attenzione. Sì, vai. Non rubarla. Non rubarla. Comprala. No, ma dai! Ma perché? Ma era un innocente? No. No, no. Perché l'hai... Perché ho due abilità diverse, penso che l'avessi capito. Ah, ok, ok. Ok, no, no. Scusa. Con il tasto destro fai la magia e fai le scosse. Quindi adesso ti stai mettendo a fare le scosse. Esatto, è più divertente, non è più figo. Sì, ma sono tristissima. Cioè, poteva essere l'occasione di vendere una spada e cerca di rubarcela, ma no. Direi di fermarci così, ragazzi, per questo primo episodio. Speriamo tantissimo che lo vogliate vedere continuare perché è davvero troppo, 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 troppo bellino. Anche a me piace troppo. Tantissime cose ancora da fare, coltivazioni, espandere il negozio, creare noi delle armature, delle pozioni, cose del genere, da quello che ho capito. È fantastico. Ci saranno gli assalti dei barbari quando diventeremo più ricchi e potenti. Davvero, davvero di tutto. Spero che si riusci così sui video. Scioggiungi un like. E se è la prima volta che vedete il nostro video, potete considerare l'idea di iscrivervi per non perdervi gli altri episodi. Ciao, alla prossima! Ciao, ciao! Ciao!